Live. Praticamente Paolo, a me una cosa che colpisce è questa, sono i commenti che la gente scrive ancora prima che parte il video, no? Allora io ho postato dicendo, no, come sempre faccio, allora ci sarà Paolo Ruffini, e un utente ha scritto dicendo, senza neanche sapere di cosa parleremo, no? Senza neanche sapere nulla, e ha scritto, sempre meglio di Renzi, perché io ho intervistato Renzi, no? Però ci stiamo spostando sul trash in maniera pericolosa. Ha scritto così, io che non rispondo mai ai commenti, mi sono permesso Paolo, scusami se te lo dico, mi sono permesso, e gli ho scritto, guarda, non sai neanche di cosa parleremo e commenti a caso, vergognati della tua ignoranza. E secondo me questa è veramente il grande problema che io oggi vedo, in generale sui social e nella società, cioè c'è una grande ignoranza, c'è un grande pregiudizio, la gente non si ferma mai un attimo a ascoltare, vuole solo commentare per avere ragione, per... e questo colpisce tutto, no? Colpisce qualunque argomento di cui vai a parlare, non c'è mai un po' di approfondimento, ecco. E quindi questo mi ha fatto incazzare e volevo dire... No, hai ragione, te ne arriveranno tanti, te ne arriveranno tanti, ma io figurati, io già detesto il giudizio, figurati il pregiudizio, che penso sia proprio una roba... però sai, la cosa, poi tu sei molto più abile ovviamente di me questo nell'ambito social, io poi parlerò di sociale, poi dopo... no, perché secondo me quella E è fondamentale, no? Cioè, va benissimo il sociale, poi c'è il sociale e anche altrettanto interessato. Cioè, io non so se... che era Aristotele, ora già faccio la prima gaffe, se tornasse in vita, continuerebbe a dire, credo, l'uomo è un animale sociale, non un animale social, no? Quindi questo mi colpisce. Però c'è scritto commenti, non giudizi di solito, eppure la gente dà i giudizi. Questa cosa mi ha strabiliato, insomma, di questo cambiamento epocale che c'è. E quindi, sai, poi... io ho scritto anche, pensa, un volume, una delle cose... che si chiama Odio Ergo Zoom, e quindi era proprio... ho raccolto tutti gli insulti che mi erano arrivati dopo il Davide Donatello, ed era entusiasmante, insomma, era molto entusiasmante. Io ho visto, guarda, della roba che hai fatto e... come dire, io ti conosco lato cazzeggioso, ok? E quindi tutta la tua parte più comica cazzeggiosa, però a me ha colpito, ecco, le ultime due cose che hai fatto, Up and Down, e non mi ricordo l'altro se si chiama Resilienza o Resilienza. Resilienza. Resilienza, Resilienza. Sono due... Ma mi ha... onestamente io invito tutti ad andare a dargli un'occhiata, anzi magari adesso... c'è su YouTube anche il trailer, lo trovo su YouTube? Sì, lo trovi, lo trovi. Sia Up and Down che di Resilienza. E lo faccio anche vedere. I film invece sono su una piattaforma che si chiama Chili disponibile da oggi. Ok, ok. E a me, cioè, onestamente mi ha colpito. Non ho visto i due, diciamo, prodotti finiti, documentali finiti, ma ho visto il trailer e peraltro ho visto anche alcune cose che hai fatto durante il Covid. Avevo seguito la parte di tour che facevi nei teatri, con i ragazzi... Con la sindrome di Down. Con la sindrome di Down che interagivano con te. Insomma, mi ha veramente colpito, ecco, onestamente. Quindi quando vedo dei commenti basati così sul pregiudizio, ma sì, Paolo, cazzeggia, mi fa girare i coglioni. Ma no, ma va benissimo. No, ma è che ringrazio, ma va benissimo. Cioè, a parte, poi anche lì, trash, cioè, può essere anche un genere interessante. Insomma, ci sono... Ci sono grandi autori che si sono spesi su quel tema. Però, sai, è una, come dire, è una cosa che io vivo molto. Io, ad esempio, ti rammentavo di un libro. Sai che quando io scrivo un libro, anche su... Io ho scritto un libro, si chiama la sindrome di Up, ma prima ancora ho scritto altri due o tre libri, e a me mi è capitato, ti dico questo aneddoto, sono andato alla presentazione, buon dato lì. E succede che io vado e tu dici, ah, eccolo, ah, buongiorno, che piacere, grazie, grazie che sei qua, grazie, grazie mille. E poi me l'ho detto, accomodati. Ah, stavo andando il trailer, vai, vai. Sì, è questo qua. No, no, ma è solo mentre chiacchieriamo, insomma, volevo solo far vedere per dare un'idea visiva, insomma. E allora, a un certo punto, mi hanno detto, guarda che sono contento, ho detto, ma... Era la presentazione del mio libro, no? Ho fatto, ma... Cominciava alle sei, erano le sei e un quarto, vedo, non cominciava. E mi tenevano in attesa, c'era tutto il pubblico già, no? Alle sei e mezzo dico, scusate, ma non cominciamo? E loro dicono, mi stavo aspettando l'autore. Dico, cacchio, l'autore sono io. No. Pensavano fosse Paolo Ruffini, secolo del di Castero, quello... Cioè, io c'ho un omonimo, molto autorevole, e pensavano che l'autore del libro fosse lui, perché non pensavano che io avessi scritto un libro su un tema serio, capito? Chiaro, chiaro, chiaro. Quindi è una... Cioè, questo è un paese curioso, però soprattutto è un paese che non capisce che a volte per fargli scemi bisogna avere un certo tipo di acume. Cioè, non è che uno fa... Uno... Cioè, è anche un lavoro a volte fare il coglione, no? Ed è un lavoro autorevole, insomma. Quindi io lo rivendico, anzi. Miriam ha centrato il punto, secondo me, con questo commento su LinkedIn. Dice, è davvero toccante resilienza e poi penso che i comici abbiano davvero una maggiore sensibilità per trattare certi discorsi. E questa volta uno se lo dimentica, no? Perché manca, diciamo, questo. Però in generale, secondo me, Paolo, il fatto che uno magari ha una certa... Viene sempre associato per categorie, ecco. Sì, sì. Ha un'immagine, allora dice, ok, tu sei quello che fa quella cosa lì. Sì, sì, esatto. Qualcuno sia, capito? Se canti le canzoni pop, a quel punto poi se fai... Che cazzo non so... Il reto... Io poi ho fatto, beh, io ho fatto Colorado, Cine Panettoni, MTV, cioè io ho fatto proprio... Ecco, se esiste, come dire, a me poi piace il rock e l'hard rock, io ho fatto il pop e l'hard pop, cioè io proprio sono andato sul pop più spinto, tutte le cose più nazional pop le ho fatte, ma le ho fatte con orgoglio. Anche Cine Panettoni, io ho fatto un film che è una super vacanza di Natale, che è una sorta di blob di tutti i Cine Panettoni della storia della famiglia di Laurenti, se li ho collezionati in un unico film. Ma lo faccio con piacere, ma anche perché, ad esempio, anche quei prodotti lì erano prodotti di una libertà scatenata che oggi è impossibile, no? Oggi questo tipo di morale, questo tipo di potere, no? Io a volte credo che sia inquietante, perché oggi se fai una battuta su un tappo di plastica, domani ho l'associazione tappi di plastica italiani che mi vengono a rompere i coglioni. Tu la sai benissimo, ho già teorizzato molto su questo e te ne ringrazio, perché è veramente una cosa che limita molto la creatività. Oggi non si può più scherzare su niente, siamo proprio un paese di offesi, no? E mentre prima tu vedevi proprio anche film di una libertà scatenata che sfottevano, certo, in maniera anche molto pesante, con appellativi discutibili, se voglio, omosessuali, donne, uomini di colore, però non è che quando accadeva questo il mondo era molto peggiore, insomma. Anzi, credo, io da buon livornese, credo che se su una cosa un po' non ci si scherza, c'è qualcosa che non va, no? Io, non aver paura non sarò blasfemo, però ti racconto una cosa. No! Perché io sono un livornese, c'è un detto secondo me che racconta molto bene quella che è la mia goliardia, stai tranquillo, c'è un livornese che è sulla spalletta... Scusami Paolo, dopo che Alessandro Baricco si parlava di marketing ed è partito dicendo un po' in fondo, cioè, una roba tipo, i più grandi geni di marketing della storia sono la chiesa, no? E quindi, cioè, puoi dire qualunque cosa... No, ma guarda, è molto semplice la battuta, c'è un livornese che vede Gesù che cammina sulle acque, e il livornese che di solito lavora non molto e sta lì a fare delle spelle sieste, si gratta un po', io sono di Livorne, le vedo queste situazioni, sulla spalletta così vede Gesù che cammina sulle acque e dice, boia, guardamelo lì, non sa nemmeno nuotà. Questa è la dinamica di una... un po' all'amici miei, di una zingarata, però è importante continuare a scherzare sulle cose, perché sennò nascerà una sorta di, voglio dirla forte, di fascio democrazia, che noi tutti avremo paura di lavorare per il timore che della gente possa dire, a prescindere che una cosa fa cagare. Però a noi, rispetto anche a chi faceva satira, se trett'anni fa c'era Berlusconi, ottant'anni fa c'era il... Cioè, adesso, chi prendiamo in giro? Anche a livello politico. Cioè, dovremmo prendere in giro noi, perché il vero potere siamo diventati noi. Questo è il casino della comicità oggi, capito? Cioè, il fatto che tutti quanti si prendono così tanto, fottutamente, sul mondo. Ah beh, non lo so, colpisce, diciamo, purtroppo vivendo tanto sui social, perché inevitabilmente sei influenzato, no? Se tu continui a avere davanti un feed di gente che commenta, che in un modo o nell'altro devi tenere d'occhio, no? Per mille motivi, perché spesso anche ci sono, peraltro, delle gemme clamorose dentro lì, e quindi io ho scoperto persone straordinarie da un semplice commento, o magari una ragazza una volta mi ha scritto dicendo, ma guarda, ma dai, intervista questo personaggio che era un suo carissimo amico, ho detto, ma dai, davvero lo conosci? Sì, davvero lo conosci. E quindi, devo dire, a volte è veramente un posto super. Dall'altro lato, vedere ogni volta questa, non so, c'è questa invidia sociale, poi questo giudizio continuo che non ti mette mai in discussione a te commentatori, ore. Ti faccio un esempio, ieri ho avuto Matteo Renzi, permesso che io non voto, ok? Cioè, non è che dici, vabbè, e ho intervistato, so, casaleggio la settimana prima, ma quindi io parlo a 360 gradi, no? Con tanti, anche in un modo così, vivo in Inghilterra, non so che cosa dire, so, più di questo, non so come far capire che non ho un attaccamento politico. Però la cosa incredibile sono i commenti di gente che spara a zero e poi si lamenta del fatto che i politici non ascoltano il cittadino. Ma cazzo, sei tu il primo a impalare un tizio? Non l'hai neanche fatto cominciare a parlare, no? E quindi a me questa è una roba che mi andrà fuori i testi. No, ma è tutto così. E da qui, poi, venendo un po' a bomba anche sul lavoro che ho fatto, mi ha cominciato ad interessarmi proprio a lavorare e dedicare un'attenzione più nei confronti dei cosiddetti ultimi, no? Perché a un certo punto mi sono arrovellato pensando al fatto che comunque tante volte si stava stabilendo sui social soprattutto una linea di normalità. E questa cosa mi faceva veramente arrabbiare, anzi la detestavo, perché tutto quello che era anormale veniva quasi immediatamente escluso o stracizzato. Questa cosa, ma perché? Allora io iniziando a lavorare, c'è un mio carissimo amico che si chiama Lamberto Giannini che faceva un laboratorio teatrale, lo fa ancora da 21 anni a Livorno, dove lui dice tutti quanti abbiamo un corpo, tutti quanti abbiamo un'anima, tutti quanti abbiamo un cuore, quindi tutti quanti possiamo essere degli attori. Faccio un laboratorio teatrale esclusivo, cioè chi escludo? Nessuno. Quindi aperto a tutti. Cominciano ad arrivare persone che diambulano male, persone con vari tipi di disabilità e io mi entusiasmo a vedere questi spettacoli. Mi entusiasmo e sei anni fa dico, caspita, ho finalmente a teatro qualcosa che ha un senso. La disabilità a teatro era sempre declinata nel senso un po' elitario, un po' chic, insomma. E ho detto, ma perché questa cosa non può essere pop? Io voglio riuscire a fare uno spettacolo con persone anche disabili senza giustificarle, in un circuito commerciale. Quindi anche, lo dico anche sinceramente, anche se ci sono organizzazioni di beneficenza meravigliose, i miei non sono spettacoli di beneficenza. Cioè, i miei sono spettacoli dove gli attori sono pagati, sono professionisti, ed i vestiari fanno l'attore. E questa cosa l'ho portata nei circuiti dove io sono abitualmente avvezzo a frequentare. Quindi la prima serata d'Italia 1 a Natale, piuttosto che, non so chi è di Roma, magari conosce l'India o i teatri off, o quelli più chic. Invece io l'ho fatto al Brancaccio, così come a Milano non l'Elfo, ma il Teatro Nuovo, il Nazionale. E questa cosa è diventata, secondo me, quella lì. Questa briciolina qui è diventata una piccola avanguardia di cui sono felice, ma perché, perché, caspita, mi rendo conto che la disabilità è un argomento molto pop. E tante persone si sono venute ed è diventato un successo pazzesco. Poi di lì è nato anche un documentario che tu prima hai fatto vedere, e poi anche un progetto editoriale. Ma semplicemente perché ti rendi conto che questo è un paese dove noi siamo stati a lungo a pensare che, sai, tutto quello che era diverso veniva fino a 30 anni fa richiuso in centri di istituto manicomiale, in condizioni igieniche e sanitarie molto precarie. Adesso siamo arrivati a dire a chi è diverso da noi molto spesso, per una morale vagamente strisciante, in questo momento poverino. Ma in realtà queste persone non hanno voglia di sentirsi dire poverino, queste persone non hanno voglia di sentirsi dire tu vali quanto me, che è molto diverso. Peraltro io ho fatto una chiacchierata con Davide Cassioli. Sì, certo, che è non vedente, straordinario. Non vedente, che fa record di, fa delle robe che io non farò mai in vita mia, no? Quindi a me questa è la cosa che poi fa incazzare, perché hai tutti questi pregiudizi, ma pregiudizio di cosa, no? Cioè, ma no, ma è lo stesso. Lui ti dice non puoi dire cieco, non puoi dire, capito? Cioè, anche sull'uso delle parole, delle cose, è bestiale, è bestiale. Senti, di resilienza, perché a me onestamente resilienza mi fa piangere subito, ecco. Ho visto solo il trailer e mi sono fermato, perché già mi fa piangere, ok? In un modo bello mi fa piangere, no? Però mi tocca molto, ecco, questa... Allora, io sono molto amico di una famiglia. Il mio amico si chiama Giovanni Cavallini, è un direttore della fotografia che ha fatto tanti film, tanti anni fa. Ha tre figli. Il più piccolo, otto anni, si ammala di una forma tumorale tremenda, si chiama neuroblastoma. Questa cosa, otto anni, gli dicono, tu hai sei mesi di vita. La sua grande forza è stata che ha detto, questo bambino, otto anni, dice, il mio problema non è il problema tra vivere o morire, il mio problema è tra divertirmi o no. Questa, come dire, ha girato il problema in maniera straordinaria e questo cambio di prospettiva gli ha consentito in realtà di ridicolizzare la malattia, ridicolizzare qualsiasi pronostico medico. Se ne è andato a 14 anni e la banalità, quando una persona, io non ho figli, però insomma, a me mi ha colpito subito il fatto che quando tu perdi una moglie, diventi vedovo, quando perdi un padre, diventi orfano, quando perdi un figlio, non c'è una parola né nel ceppo anglosassone né nel ceppo endo-europeo che va a raccontarti quella situazione. E quando questo mio amico al funerale, insomma, la banalità che io gli ho detto è posso fare qualcosa, no? E questo mio amico mi ha risposto aiutami a tenere vivo Alessandro. E l'unico aiuto che io sono riuscito a trovare è, grazie al cinema, che nella mia vita è sempre stato salvifico, mi è venuto incontro, ho detto, ho preso due fratelli più grandi e ho detto adesso facciamo un film sulla vita di Alessandro. E su questa capacità appunto resiliente che io non conoscevo, ma che esiste anche in fisica, in ingegneria, cioè proprio se un elemento ha una traiettoria, incontra un ostacolo, questo elemento riesce ad aggirare l'ostacolo proseguendo nella sua traiettoria. In psicologia è il riassetto ottimistico che hai dopo un trauma importante. E molto spesso i bambini hanno questo talento naturale al loro interno e quindi alla storia di vita e di divertimento e di gioco di questo bambino e di altri due personaggi. Uno è Sammy Basso che è malato di progeria e ti consiglio di conoscerlo perché è una persona straordinaria. Lui è un biologo e tutti i giorni si sveglia con una malattia che hanno in cento nel mondo e lui è il più vecchio del mondo ad avere questa malattia e ha 24 anni. Un altro è Bruno Arena che è un mio carissimo amico che faceva coppia con Max, erano una coppia comica, si chiamavano I fichi d'India. E anche loro sono nel documentario ed è stata una ricerca per me bellissima. Come up and down, si cerca di trattare temi seri ma senza seriosità. Esiste una superficie ma esiste anche una leggerezza e noi cerchiamo di applicare la leggerezza e il sorriso. Peraltro devo dire che spesso, e questo non so forse la facciata del comico distorce sempre molto la realtà perché io conosco un sacco di gente appunto che magari fanno lo stand-up comedian o personaggi anche italiani insomma comici che quando ci parli sono assolutamente diciamo non comici no? Nel senso hanno un livello magari di profondità o di osservazione anche della realtà che non ti aspetteresti no? Invece se vedi uno che fa il cazzone dici vabbè così va fa il cazzone e viene. Ma sì, è un mestiere insomma anche quello sai. Poi se lo sai ti viene meglio insomma però c'è la famosa, nell'immaginario collettivo insomma l'idea del cloud con la lacrima l'idea a volte vincente. Ma sai io conosco tantissimi comici che non fanno ridere o che sono molto antipatici che è anche una cosa che si può considerare dicotomica rispetto al lavoro no? Perché uno dice cazzo fai il comico sei simpatico no? Conosco tantissimi che non sono simpatici per niente però fanno ridere. Però ti ripeto quello che secondo me è interessante che cerco di fare io è di veicolare comunque dei messaggi che non è che sono seri o sono forse sono soltanto importanti ma possono essere messe anche in chiave di commedia insomma l'ha fatto mio mito assoluto. Guarda Benigni con la vita è bella. Si possono dire delle cose. Io ho scelto il formato del documentario perché è un formato che mi piace, mi interessa e poi cazzo soprattutto con la Sidney Down era un'occasione troppo ghiotta quella di giocare sul contrasto tra up e down. Cioè le persone più up che conosco sono le persone down. Cioè è una roba pazzesca. Io contro da stamattina lo stesso che tu magari avrai visto tante persone in down. Invece le persone down sono veramente hanno, io dico sempre, hanno una confidenza con la felicità che a me manca. Cioè quel cromosoma lì che loro hanno in più è una roba che gli dà meno filtri nei confronti dell'emotività e filtrano tutto meno. Quindi si incazzano tantissimo, sono felicissimi, sono arrapatissimi, sono se vogliono stronzissimi e questa cosa li rende super insomma. Capito? Capito. Però come giustamente dicono loro, scusami poi ti parlo troppo, scusami. Però la roba è che quando io, questi sono sempre stati considerati ragazzi speciali, quando io ti dico che sei speciale, comunque ti metto da parte. Invece l'esigenza che Federico Parlanti, uno degli attori con cui ho lavorato io, ha espresso in maniera secondo me geniale di dire io non sono speciale, io sono normale. E questa cosa mi ha entusiasmato, anche perché le cose più fiche proprio non accadono in natura in maniera normale. Non esiste un tramonto normale, non esiste una foglia normale, non esiste una goccia d'acqua normale. Cioè le cose più fiche della vita non sono normali. L'amore, non esiste una famiglia normale. E quindi aveva ragione lui, cazzo. E ho capito che fondamentalmente l'intelligenza o la cultura non fanno tutto nella vita. Cioè io voglio risedermi a tavola con persone molto più sensibili che intelligenti. E questa è la cosa straordinaria, che la maggior parte delle persone che anche io, con cui io interloquisco e che mi scrivono e che io leggo molto spesso, si favoneggiano e ostentano una cultura, un'intelligenza, di cui poi non ci fanno un cazzo. La sensibilità è la vera risorsa, forse, no? Che riuscite ad andare avanti e fare cose belle. Sposo in pieno, anche perché spesso hai persone molto intelligenti che sono assolutamente irrilevante rispetto alla storia dell'uomo. Non è che, vabbè, si è intelligente, buon per te, insomma. Però a me piace, ad esempio, Bergonzoni, che ho intervistato, però l'ha fatta in audio. Alessandro l'ha fatto solo in audio. Non si è mostrato il maestro e ha fatto un'ora praticamente in monologo dove dice tutte le sue robe incredibili. Un burro pieno, un funambolo della parola. Tu che ti giri e dici, aspetta, aspetta, sono ancora fermo, ho riso su quello che hai detto sette minuti fa e non ho... Però la cosa che a me piace, che lui spesso dice, è perché noi dobbiamo occuparci di un problema solo quando tocca a noi? Perché non possiamo occuparci, preoccuparci di una situazione, di una malattia, a prescindere dal fatto che tocchi noi o meno, no? E quindi questo è, secondo me, un aspetto rilevante, che c'entra molto con la sensibilità. Guarda, tutti quanti mi dicono, hai un fratello down? Esatto. Hai avuto un... Hai un figlio? No. Hai un nipote che ha avuto un tumore? No. Sono molto fortunato, quindi in questo senso. Io adesso sto facendo un... Voglio realizzare un documentario sull'Alzheimer, proprio per quello che dici tu. Cioè, io non è che devo aspettare di interessarmi una cosa perché mi tocca, anche perché della maniera in cui mi tocca, inevitabilmente avrò un coinvolgimento che non mi consentirà un racconto, non dico imparziale, ma... Cioè, io... È come hai fatto tu prima, no? Ci siamo sentiti tre minuti fa, mi volevi fare una domanda e dici, aspetta. Cioè, quello che... Noi non ci siamo mai parlati, realmente. La prima volta in questo momento. È questo che è entusiasmante. E questa cosa si capisce, cioè, si percepisce, si legge, no? E già la prossima volta che magari ci risentiremo, me lo auguro tanto, non ci sarà più questa purezza. Quindi, inevitabilmente, io voglio di indagare su delle cose che non conosco come potrebbe farlo chiunque, con il quid in più di avere, forse un minimo di esperienza, un minimo di facilità nella trasmissione di quel concetto, insomma. Ma come, diciamo, risposta ai due documentari, che risposta hai avuto? Perché non sono il classico prodotto, diciamo, cinematografico, il classico documentario dove ti presenti, dici, ah, ok, va bene, rientri nella categoria, boh, attacco a Trump, va bene, ci siamo, politico, biografia, sportiva. Cioè, è categoria molto standard. Lì, come dire, dove sei andato? Come ti sei mosso per la parte di distribuzione e il finanziamento anche del documentario? È una domanda molto difficile, nel senso che non ho, no, difficile nel senso che torno sempre a, però non voglio fare la vittima assolutamente. Diciamo che io a un certo punto ho detto mi firmo con un pseudonimo. Cioè, perché se, come dire, il mio nome rischiava di essere un ingombro pesante, fuorviante e anche, cioè, se questo documentario l'avesse firmato una, insomma, un blasonato autore italiano, forse avrebbe avuto anche un respiro diverso. Cioè, nonostante Appendauen ha vinto un nastro d'argento e lo miglior documentario e, insomma, ha avuto una bellissima vita, perché è stato trasmesso su Sky e ha preso i diritti la Rai, quindi, insomma, con tanta fatica siamo riusciti a promuoverlo e a fare un bel lavoro. L'ho prodotto, in realtà, in primis da solo con dei partner, la distribuzione è poi stata curata da Fenix, ma è veramente complicato distribuire un film e figurati un documentario. Però è stato tutto in maniera molto carbonara. Io penso di essere uno dei pochi fessi in Italia che ha fatto un film senza godere del tax credit, senza godere di sovvenzioni, non c'è dietro il ministero, non c'è dietro nessuno, insomma. Questo, da una parte, è per garantirmi una libertà, ma in realtà è perché è una burocrazia talmente lontana dall'attività artistica, che io tutto il tempo che la gente spende per compilare dei moduli, io lo preferisco spenderlo a sognare, insomma. Ma non è che voglio fare romantico, però è così. Quindi ho una casa di produzione, comunque piccola, con delle persone che adesso si stanno specializzando a fare bandi, però è una specializzazione che è totalmente avulsa da qualsiasi concetto artistico. Quindi questo è proprio un prodottino che si è autoalimentato, ed è così. Resilienza ancora in maniera diversa, però anche lì ho avuto una piccola soddisfazione, è stato trasmesso da Italia 1 un sabato in seconda serata. Per me quelle sono le soddisfazioni, ti ripeto. Non si arriverà mai ad una vera trasmissione culturale finché non fare in modo che la gente, l'audite, per sbaglio anche, caschi su un concetto interessante. Cioè l'ideale sarebbe se un giorno al posto del telegiornale ci fosse qualcuno che in maniera molto più interessante ti dicesse le stesse cose. Come appunto, non voglio tornare su Benigni, Dieci Comandamenti o La Divina Commedia, però quel concetto lì io li ho imparati con lui perché il mio professore di italiano era un rompimento di palle estremo e non era assolutamente seduttivo su quelle tematiche. Anche lì quel concetto pedagogico è così. A me mi insegnavano, mi spiegavano l'infinito di Leopardi, ma non mi spiegavano perché avrei dovuto studiare l'infinito di Leopardi. Perché se mi avessero spiegato che io con quella cultura lì avrei potuto comunque vivere meglio, essere meglio, votare meglio, rimorchiare i più figli. Cioè nel senso, sarebbe stato... No, però è vero, non te lo dice nessuno. Cioè io faccio un liceo classico, devo studiare greco. Che coglioni, vai ovvio. Cioè ora vai... Ora mi ricordo quando mi dicevano guarda che un bel comandamento è glotis autonico, conosci te stesso. Perché? Perché sì. Ecco, il perché sì ha una risposta meravigliosa quando viene detta da un bambino, non quando viene detta da un professore. Anch'io ho fatto il classico. Ma tu hai fatto il classico a Livorno? Sì, sì, sì. Io ho fatto il classico a Milano e le poche cose che mi ricordo, siccome giocavo sempre a ping pong, quindi andavo così, stavo per caso, però i momenti più belli della mia vita sono stato... Era quando c'era il picchetto, che arrivavo davanti a scuola e c'era il picchetto per l'occupazione della scuola e quindi non ti facevano entrare. E tu dicevi, vabbè, io la faccio sfondo il picchetto, vado, vado. Te entravi? Te entravi? No, zero. Andavo, c'era picchetto. Non mi autorizzavi, quindi era la scusa per... Senza interessarti minimamente della motivazione. Cioè l'importante... Vero, era, guarda, vabbè, se c'è picchetto c'è picchetto, insomma, hai chiesto tutto il gruppo, ops, e si balzava la grande. Però devo dire che, tornando indietro, ecco, studierei in modo totalmente diverso. L'ho fatto anche giurisprudenza, però ho sempre studiato così. Infatti io ti ho seguito molto spesso, tu lo dici, non mi ricordo niente di tante cose. Però da qualche parte quella roba l'hai digerita e ce l'hai, no? Sì. Però ti ripeto, c'è sempre un motivo anche proprio... Però è proprio una roba che manca l'acqua ideutica proprio del... che manca a livello basico della scuola. Cioè, se tu riuscissi a giustificare o a sedurre di più i ragazzi, raccontandoli delle cose... perché poi nella storia trovi anche tutte quelle cose anche un po' più originose, quelle cose che a 14-15 anni le provi. Presente quando c'è quei baffetti da inchiavabile che ti vengono, che ti piace quella là del primo banco che non te la darà... cioè noi tutti siamo vittime di quel momento lì, no? Di quando abbiamo questi baffetti ed è sempre la rincorsa a quella ragazza del primo banco. Fondamentalmente è sempre così. se no non si spiegherebbero le differenze di età in età più adulta. Però, caspita, è quello che allora avrei voglia di sapere che mille anni fa c'è qualcuno che ha avuto quei baffetti da inchiavabile come me. Raccontamelo, dimmi che ce li ha avuti. Invece, capito, è tutto ingessato. E anche la disabilità, per tornare al nostro tema, è sempre tutta ingessata. Non si può mai fare una battuta. Cioè, io... Al posto dei promessi sposi, uno dovrebbe leggere l'inchiavabile, capito? E fare una roba a casa. Cambiare questi libri di testo. Penso a Leopardi, ma tutto, capito? Però... Cioè, capito, anche... anche, appunto, io ho capito che le persone... appunto, le persone down hanno una... veramente, non avendo il filtro, dicono delle cose... Cioè, io, che ne so, gli chiedo qualsiasi cosa e arrivano delle poesie, insomma. Capito? Uno, ad esempio, gli ho chiesto, secondo te... Ho chiesto a una persona down. Ho chiesto, secondo te, com'è Dio? E lui mi ha detto, è un po' come me ed è un po' come te. E la trovo una definizione strepitosa. E lui si è voluto vestire da papa nella locandina... Noi nella locandina di Up and Down abbiamo un ragazzo down che si veste da papa, uno da Dalai Lama, da Trump, un ragazzo autistico. Perché poi lavoriamo anche... C'è anche un ragazzo autistico fantastico, insomma. È una grande risorsa, una grandissima risorsa, veramente. Lavorare con i famosi ultimi, anche perché siamo in un momento storico dove miriamo tutti ai follow per essere belli, bravi, ricchi. Ma poi, alla fine, perché non ci possiamo perdonare per essere così come siamo, no? Se ci pensi bene. Assolutamente. Infatti questo, secondo me, è un ottimo spunto di riflessione. Io non lo so perché, Paolo, ma c'ho un sacco di sbarbati che seguono i video che faccio e a volte veramente mi chiedo perché no? Perché io ho 47 anni e parlo a persone nella mia testa che hanno la mia età, no? Però devo dire che a volte è un messaggio secondo me importante che spero che passi. Insomma, poi, voglio dire, è sempre difficile far passare messaggi. Quindi posso essere me stesso e poi se uno recepisce il messaggio bene, se no, ah, ma insomma, non è che abbia chissà quale potere trasmissivo. Però l'aspetto del voler mettere fuori magari dei tuoi contenuti, una tua identità o di raccontare un tuo percorso, prescinde da quanti numeri fai, quante visualizzazioni fai il video, quanti follower c'hai. È proprio un'altra roba. È una tua, diciamo, necessità espressiva. Però tornando al discorso dell'inizio, il giudizio continuo, massacratorio, che tu hai appena carichi una clip dove dici ciao, mi chiamo Giorgio, vi voglio bene, e ti arriva il commento di quello che dice bastardo, non si dice vi voglio bene, si dice vi voglio benissimo, capito? E allora questo inibisce poi un po' l'espressione, ecco. Parlavo con, scusa, vorrei il tuo figlio su questo, ma parlavo con Albertino tempo fa e lui diceva quando io ho iniziato a fare radio non c'erano i commenti, perché io facevo radio e poi, capito, avevi i report dopo. Qua invece tu magari fai una canzone, la metti online e sei ancora un po' un artista in crescita, ti devi ancora formare e la gente già ti massacra e tu già ti fai mille problemi, non hai tempo di evolverti. Questo effettivamente è una cosa da considerare. Come l'affronti tu? Guarda, io purtroppo con tanta nostalgia, nel senso che l'affronto ricordandomi i magnifici anni Ottanta, dove c'era Dreivin, c'era un cocker che si chiamava Haspidanken, e ricordo le signorine... C'era Greggio con Haspidanken. Era Gianfranco D'Angelo. Era Gianfranco D'Angelo? Ma Ezio Greggio era in Dreivin? Era in Dreivin, sì, sì. Era la spalla di Greggio, di Gianfranco D'Angelo era la sua spalla. Ma anche le ragazze cocodè, anche se era una parodia di Firenze Arbore, ma piuttosto che Cine e Panettoni appena citati. Cioè noi avevamo un mondo bellissimo, un mondo che oggi è impossibile da replicare. Quindi ti ripeto, soprattutto nell'ambito artistico, abbiamo fatto 40 anni, siamo andati dietro di 40 anni, ma ti basti anche pensare che visto in tempi di pandemia c'è stato quello spot della Lavazza che ha fatto uno spot con il discorso di Chaplin, tratto dal grande dittatore del 40, no? Non so se l'hai visto, però insomma è un bellissimo discorso di 80 anni. Allora mi domandavo, ma se ci sarà una pandemia tra 80 anni di oggi, cosa riprenderanno? Cioè, il problema è che noi stiamo producendo contenuti che possano rimanere nel mito, capito? Questo è il problema. Cioè, ecco, tu dimmi una roba, ora a questo ti sfido, ti faccio questa sfida che non te l'ho detto. No, no, non ero pronto, non ero pronto, va bene, aspetta. Per mito intendo, 007, Star Trek, Star Wars, una roba mitica, ok? Dimmi una roba mitica dopo il 2006. Però mitica, non mi dire la casa di carta, perché se non ho Netflix, cioè non mi dire, capito? Ovviamente Fortnite non vale, perché i miei figli risponderebbero a Fortnite. No, è perché io non so. Più mitico di Fortnite. Cioè, i Puffi, per esempio, è mitico, no? Perché anche chi non aveva figli conosceva i Puffi. Un mito, un mito alla Elvis, Marilyn, un mito, c'è un mito, micchia, un mito Beatles, Igunis, Superman, L'Uomo Ragno, Batman. Hai ragione, hai ragione. Però, secondo me, è anche vero che magari qualcosa che è venuto fuori in un certo periodo, in quel momento non sembra magari così un mito, ecco. Non lo so. Quindi sono abbastanza fiducioso che qualcosa sbuccherà fuori. Però non ti so rispondere. È un casino. È un casino perché questa epoca ha bisogno di un mito che non può avere. perché manca la distanza, automaticamente. In chat, in chat. Datemi un'aiuto in chat. In chat di... Magari. Allora. Un mito. Harry Potter. Il 97. 90... Eh, Pokemon il 92 sarà. Elon Musk. Ma l'ho vinto nel senso di... Va bene, a parte... No, Pokemon Harry Potter, perfetto, ma sono anni 90. Cioè... Ok. Signori degli Anelli è 2000. Cioè, non so. Il problema è che, ragazzi, è che c'è, se tu... Se tu, tu per avere... Cioè, cazzo, Marilyn oggi non sarebbe su Instagram. Cioè, non sarebbe... Tu ce la vedi una storia di Marilyn che sta lì così? No, cazzo, no. Cioè, la distanza... Quando c'è una persona che ti conta... L'assenza, l'assenza è fondamentale. Si prende già una confidenza esagerata perché magari sta sul cesso e mi vede sul telefono. Quando abbassa il telefono, io sono qui. Quindi è questa la distanza, capito? Cioè, prima... Sta roba qua non ce l'avevi, ma non dico che... Altri spunti arrivano, arrivano altri spunti. Sei pronto? A parte... A parte... Il cazzeggio totale, a parte il divino hotel, Breaking Bad, alcuni dicono. Vabbè. Ma è nicchia, ragazzi. Cioè, Twin Peaks era una serie che... Cioè, io voglio la generalista perché se voi mi parlate di... Marvel Cinematic Universe. Però vabbè, è il collage... Ma sono i supereroi degli anni... Il collage di tutti i supereroi precedenti. Madonna! Madonna già! Quanti anni già? 86. Ma sì, Madonna. Madonna, veramente, Madonna. Avengers, Marvel, ma no, ragazzi, cioè, questo è... Non ho visto niente. TikTok mi sa che non sarà il mito. Cioè, tutta questa roba qua, alla fine, non hai inventato un cazzo. Ma viene... Vabbè, Walter White, no, ragazzi, cioè, non ho visto nulla. È possibile che non parto... A me non viene in mente nulla, però se è qualcuno... Perché il web, cioè, quando te trovi tutto, svanisce la ricerca. Il mito ha bisogno di ricerca, ragazzi, non è così, è ontologica la cosa. Non voglio mettermi adesso su una cattedra, perché è giusto che continuate a pensare che sono... Che sì, io sia un coglione, ma... Cioè, io voglio questo, perché... Poi venite a vedere i miei film. Però, cazzo è così. Però posso dirti una cosa, ecco, io... Magari non è il tuo caso. Nel mio caso, ragionavo stamattina che la mia grande fortuna nella mia vita professionale è sempre stata il fatto di essere continuamente sottovalutato. Cioè, io ho sempre vissuto situazioni dove... Ora fanno a botte per farsi intervistare da te. Vabbè, adesso... Ora ci sei, dai. Ora ci sei. Ti faccio un esempio stupido. Ho iniziato a spippolare un po' su TikTok e ho detto, ok, ho trovato il mio format adesso su TikTok, penso. E i commenti sono tutti... Ma cazzo, ma tu, con la faccia lì, ma come fai a fare dei numeri su TikTok? Io so già che il mio profilo esplode su TikTok, perché è come su Facebook, su altri... Una volta che so cosa devo fare, a quel punto poi lo faccio. Però, in generale, nella mia carriera professionale, la sottovalutazione ha sempre giocato a mio vantaggio, perché la gente non ti vede neanche passare, capito? E quindi è troppo un vantaggio, perché tu zitto zitto prendi e vai. Se invece uno dice, attenzione che questo arriva, immaginati un competitor aziendale, io mi ricordo avevamo fatto un network di blog, ai tempi si chiama Blogosfere, e la gente dice, ma dove vai con quel progetto lì? Ci sono i veri editori, tu non puoi fare l'editore, non hai mai fatto l'editore. E quindi è un grande vantaggio questo, perché ti sottovalutano e tu hai spazio libero per cavalchera. Senti, qua mi chiedono... Paolo, mi chiedono miliardi di imitazioni, qua te lo dico, me le chiedono. Imitazioni? Imitazioni. Ah, ma per il Lido del Cuculo, forse, la roba del Lido. Mi chiedono, mamma mia, cioè ho una lista infinita. Rambo, Rocky, quella roba là, i doppiaggi che... Perché lei sai, te c'hai quel... è giustamente il pubblico... Io sono uno youtuber antelitteram, perché poi alla fine tanti doppiaggi, non so se tu li hai visti, quelli del Lido del Cuculo che io facevo in cameretta mia, appunto al liceo classico, poi li misero su YouTube ed erano abbastanza... appunto quelli mitici ancora, perché era... eh... classici, c'era tipo Rocky... De, però de, boia, io gli ho detto... cioè, boia, lui mi fa de, però de... Io gli ho detto de, boia, lui mi ha detto de, però de, allora de, boia. Un dialogo tra premi Nobel, per davvero, eh. Tanti si ricorderanno il Baiocchi, che era questo personaggio aberrante, cioè... Ma era un personaggio, ma ci eravamo immaginati... di un film con Henry Bogart, di uno che faceva prostituire la figliola, pensa te. Ma cos'è? Oggi sarebbero impossibili ste cose. Uno del che parlava così, fai oltre. Sara, Sara, muoviti, c'è qui, vai occhi, ti devi di nosa. Allora, almeno di oggi, era, soffocone impavido, con il risorchiamento dell'asse da... Ma cose atroci, che oggi, ti ripeto, sarebbero impossibili, mi devasterebbero. E' questa la nostalgia che ho, ragazzi. Non si possono più fare certe cose, mi dispiace, ed è colpa nostra, è colpa nostra. Paolo, dimmi una roba. Adoperarci tutti. Una curiosità, visto che appunto ci conosciamo oggi, è la nostra prima volta, è il nostro primo appuntamento, ma tu come sei partito? Hai fatto il classico e poi com'è che sei, ti sei trasformato e ti sei entrato in questo mondo dell'intrattenimento? Ho fatto il classico a modo mio, poi ti manderò la pagella che la mando in privato. E' bellissima. Mi segnavano assente anche quando c'ero, perché io ero, avevo, come dire, un piano alternativo. Ho fatto l'esame di maturità ancora in 36, cioè in sessantesimi. Ho fatto l'esame a modo mio, è stato il primo grande spettacolo alla mia vita, dove diedi dei biglietti per assistere a questo spettacolo. Fu proprio uno spettacolo funambolico, non te lo sto a raccontare, ma era straordinario. Finito lo spettacolo, mi sono messo su un aereo senza sapere nemmeno il risultato e sono andato in un villaggio e ho cominciato dai villaggi. Poi a ottobre mia mamma, quando sono tornato, mi ha detto che ero stato promosso con 36. Però tutti i villaggi, tutti i villaggi, navi. Poi dopo sono andato da Buon Provinciale a una scuola di Roma che non mi aggradava tanto a studiare regia e ho lavorato in comune a Livorno in un'azienda municipalizzata che faceva fogni, acqua e gas e si chiama Asa. Timbrava alle 7.30 il mio bel cartellino e poi ho avuto una botta di culo che uno che adesso si chiama Luca Bizzarri si accorse di me di una VHS che mandai dove avevo messo due spot e una piccola parte di Ovo Sodo di Paolo Birezzino una videocassetta la mandai ad MTV. Fece un concorso di MTV. Lui mi notò però a Villa Fortuna anzi di vincere già quel concorso che si chiamava Cercasi DJ dopo Marco Maccarini prima di Cattela insomma eravamo in quell'intercapedine lì. Per cui è andata proprio così a culo con videocassetta però quantomeno ti eri sbattuto per uno il culo può anche avercelo a entrare il problema è rimanere è restare che è più complicato lì il culo ti serve meno insomma il culo ti serve sì però sai ti ripeto ora anche questa attività qui che sto portando avanti sono cose anche perché appunto altra cosa che sarebbe interessante ragionare è che se tu vedi su Instagram tutti quanti hanno successo tutti quanti sono belli cioè su Instagram non c'è dolore aspetta Paolo non c'è un motivo di sofferenza non riuscivo a capire o se no c'è un ostentazione della sofferenza però aspetta 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 l'ho perso un attimo al solito come con Claudio Bisio non riuscivo a capire se faceva la faccia frizzata finta e stava per finta per voli o se era frizzato vero allora allora Barton Panzer ecco ti hai rifrizzato un attimo ma siccome una volta Claudio Bisio mi ha fatto uno scherzo e ha fatto finta di essere frizzato non sapevo se era vero o finto no no era vero però insomma devo dire che fondamentalmente è questo ho capito che poi alla fine ci sono anche dei motivi secondo me da accogliere così come ho imparato nei documentari che ho fatto cioè del fatto che la vita è bella anche quando è brutta no cioè la vita è Alessandro Cavallini che è produttivo di resilienza diceva sempre la vita è ferocemente meravigliosa quando aveva 14 anni io trovo una definizione spettacolare cioè anche l'idea stessa di poter essere felice a me mi rende felice da lì in poi quando c'è anche un momento una sfiga un dolore una rottura di coglioni cioè è tutto comunque fa parte di questo di questo circo che stiamo vivendo anche in questo istante no e quindi capito io poi dopo mi sono avvicinato al mondo del cinema della televisione tu dici per caso però è sempre stato proprio il mio sogno è sempre stato proprio cioè io ce l'avevo chiaro in testa visto che ci sono anche quelli che adesso leggi dell'attrazione la materializzazione del pensiero eccetera io mi ricordo proprio che sognavo di fare quello che stavo facendo e quando ti ricordi quando realizzi un sogno ti devi ricordare di averlo sognato perché è più fico ancora quindi secondo me per chi fosse sbarbato in ascolto MTV ai tempi nostri era il super top era come eri come uno youtuber eri fichissimo ti facevano entrare nei posti avevi già le scarpe del prossimo anno cioè ti veniva proprio voglia di tirartela io non lo facevo perché ero proprio un Livornese un pescatore proprio da nero capace di fare pressoché una sega e che percorso hai fatto diciamo i passaggi più importanti che ti ricordi quali sono stati beh una telefonata di Aurelio De Laurenti che diceva te sei quello strozzo che lavora dentro in V ma non capisci un cazzo gli eri con me a fare un film di Natale proprio strozzo io pensavo fosse uno scherzo invece era veramente lui ma così davvero ti ha chiamato un giorno si ma ha chiamato mentre gli stavo facendo il tatuaggio tu sai che io ho detto tatuaggio io ho Arnold qua questo è veramente per i giovanissimi in ascolta impossibile ti faccio vedere aspetta che mi spoglio un po' però troverai a far vedere in diretta questo è il mio è il mio preferito nude reporting ci faranno questo è il Corrado ma dai c'hai Corrado non ci posso credere Corrado è il numero uno è il più grande comunicatore secondo me assoluto io non ecco lui non l'ho mai conosciuto quindi non so Corrado è il top è la televisione proprio quella bella televisione simpatica secondo me e poi da lì però sai anche la cosa ti stanno scrivendo per curiosità Paolo Ruffini sei simpatico Anna Rita di CMTV era tutto all'epoca che cavolo stai dicendo Willis questo è Arnold insomma vabbè tutti i commenti così al volo in base De Laurentiis punto interrogativo De Laurentiis comunque vabbè e poi di lì è partita un po' la bambola per il cinema e poi ho fatto due regie ho fatto anche due film da regista ho fatto tanti film ed attore in televisione mi sono abbinato a Colorado che è un baraccone fantastico sì è stata poi quella deriva di arte pop che ti dicevo ma dimmi una roba sui cinepanettoni perché io non li ho mai capiti cinepanettoni cioè non ho mai capito chi guarda il cinepanettoni cioè come fanno a funzionare i cinepanettoni non l'ho mai capito questo cioè come fanno come hanno fatto avere così tanto successo sì perché è esattamente la dinamica della tombola cioè è una tradizione di cioè ti risponde in maniera molto molto aulica l'enciclopedismo tribale di Avelok che è un volume di età anni 50 fantastico dove ti racconta che fondamentalmente ogni tribù ogni popolazione necessita di alcuni feticci da disintegrare e quindi esattamente come nella commedia dell'arte c'era il l'adultero romano volgarotto pariolino che era di sicca il milanese un po' polettone che era boldi e questo cioè è come Arlecchino e Pulcinella che si mischiano e davano il via alla farsa esattamente come davano via alla posciada tutte quelle cose che anche nei tempi latini è lo sfogo della volgarità e questa cosa abbinata al concetto delle vacanze natalizie sono degli ingredienti che sono perfetti cioè tu il 26 di dicembre andavi a vedere il cine panettone e ti sentivi accolto cioè sentivi che era un tipo di cinema che non ti giudicava e che ti sentivi un pochino più al sicuro anche nelle nelle tue sfere più infantili più basse capito cioè tutta quella comicità scatologica che noi facevamo quando eravamo alle medie tutti quei giochini da cretini li vedevi rappresentati però con auto di lusso con quella vacanza che io non potevo fare quella come dire quella bellissima ragazza che io vorrei conquistare ma guardate delle risate di pancia che oggi come ti ripeto sono difficilissimi da ritrovare tanto è vero quando vanno in televisione è sempre un successo posso dire Paolo questa è la miglior spiegazione mai data a un cine panettone che io abbia mai sentito secondo me questa clip resterà questa sarà il mito che resterà c'erano i cine panettoni spiegati da Paolo Lupini è come la tombola cioè è una roba che tu vivi perché sì esatto perché ti lascia coinvolgere per una volta viva Dio sei ti lascia andare cioè ti lascia andare ad un racconto nel quale in maniera molto onesta cioè perché c'è un'onestà di fondo di persone che andavano al cinema una volta all'anno ma anche perché no perché non si potevano permettere di andare con tutta la famiglia al cinema e spendere 60 euro per andare al cinema ed era un investimento che loro quel giorno in quei giorni dell'anno facevano spendo ti do 60 euro in cambio io non voglio pensare voglio ridere ridere e allora questo patto reiterato che è avvenuto negli anni è sempre stato un patto di grande fiducia finché poi appunto cioè tutti quanti non sono diventati dei merighetti dei Tullio e quindi questa come dire questo imborghesimento anche da parte del pubblico li ha penalizzati fino a poi a vestirsi che cosa pensi di Checco Zalone ho visto più persone vogliono la tua opinione su Checco Zalone che peraltro è una delle poche persone che io non ho mai intervistato il suo agente mi rimbalza sempre se arrivi a Checco sei arrivato davvero è più facile forse intervistare Sean Connery è un genio anche se l'ultimo film che ha fatto non mi è piaciuto molto però è un genio ed è l'ultima insieme come dire lui fa dei film molto più alti molto cioè sono dei film comici però sono dei film comici cioè il genere oggi in Italia non c'è più se te va negli anni 70 c'era il film comico il film poliziesco il film decamerotico il film western oggi i generi non esistono più oggi esiste un genere che è il film d'autore quindi vado a vedere il film di Muccino vado a vedere il film di Vizzi vado a vedere il film della Comincini Checco Zalone è l'ultimo grande autore l'ultima grande maschera del cinema italiano che come Totò è l'unico attore d'Italia che non ha bisogno di un ruolo cioè così come è Totò Lemoco Totò Totò d'Arabia Totò a colori è Checco Zalone in quindi è l'ultima grande vera maschera l'ultimo vero grande ruolo da commedia dell'arte appunto che il cinema italiano abbia avuto ed è un intellettuale finissimo e un grande grandissimo attore dimmi cosa stai vedendo in questo periodo io non posso dire cosa sto vedendo perché ho guardato Narcos Ozark e adesso ho iniziato a guardare Queen of South dove su Netflix lei fa la regina del cartello della droga cioè quindi sono deviato su quella roba lì non so perché mi ha preso quel triple io ho un'idiosincrasia con le serie ti deluderò quindi non riesco a vedere una roba che non è autoconclusiva e lo so fantastico quindi la casa di Kat film tutta la vita credo c'era Truffaut diceva una cosa bellissima diceva il cinema è una notizia che non finisce mai cioè il cinema ogni volta mi dice delle cose diverse come un amico che ogni volta che lo scopri ti dice una roba che comunque fa parte contingentata della tua età cioè io è da quando avevo 14 anni che ogni 3 anni mi guarda Arancia Meccanica e ogni 3 anni mi dice della roba diversa se tu ti guardi Arancia Meccanica oggi oggi ti parla esattamente della crisi del governo delle cazzate che sono successe di Conte della gestione del co cioè Arancia Meccanica è sempre per me un film politicamente perfetto sempre perpetuo perpetuo io ho rivisto durante i periodi del covid tutto Fellini e tutto Pasolini cose che da buon cinefil adolescente prima rifiutavo un po' le trovavo un po' ostiche e mi sono divertito tantissimo soprattutto con con Fellini che è impossibile trovare un narcisista che sia un antropologo così fine appassionato appassionatissimo di Topa in maniera eccezionale e che credo che sia una qui ora tutti gli intellettuali ha detto Fellini ha detto quella roba là insomma credo che sia veramente un genio assoluto cioè uno che è riuscito a teorizzare l'Italia come nessuno e i sogni io a te e mezzo goto e c'è il pezzo la dolce vita ci sono delle immagini mastroianni pieno di donne con la frusta con le cose anche lì in tempi di mitù Fellini amici miei ben pensanti che cosa avrebbe dovuto fare cosa avrebbe dovuto fare cioè ma poi mi rendeva tu ti rendi conto cioè hanno hanno fatto licenziare John Lasseter che per me è il genio della Pixar no l'ho visto insomma anche lui gli dicevano che era un abbraccione che dava troppe attenzioni io sono preoccupato capito sono preoccupato sono preoccupato l'altro aspetto se ci pensi pensa anche l'argomento rock star cioè una rock star all'inizio girava e non c'erano immagini c'era il giornalista che girava con con la rock star andava con David Bowie fine cioè quello che succedeva in tour restava in tour e quindi cioè se tu oggi avessi il materiale di quello che succedeva in tour nei tour di tutte le rock star e beh a quel punto ma ce ne vedi i commenti sotto Jim Morrison no vada per ci fare nei galera le canne non ci si fanno le canne oppure drogato 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 per cui hai questo paradosso che da un lato la gente mitizza alcuni personaggi ecco capito grande e dall'altro lato però se tu avessi cioè se lo riporti nell'era attuale con quello che è l'approccio il filtro attuale a quel punto non esiste più quel concetto lì cioè se pigli Elvis non esiste Elvis perché vai a vedere e dici oh peraltro ho visto Paolo io visto sta roba che mi ha sempre colpito su youtube c'è un video di Elvis che canta poi a un certo punto scende dal palco e inizia a baciarle tutte tutte capito passa e le bacia tutte uno a uno peraltro quella con il fidanzato il marito di fianco tutti baciamela ti prego Elvis una roba che dici era un'altra era però era un'era cioè noi almeno dobbiamo cercare di essere un'era cioè come dire che non sia ma può essere anche un nuovo medioevo però dobbiamo essere qualcosa perché sennò magma stranissimo di cose emestenziali ma è ovvio che se tu vai a giudicare la persona e non il lavoro dovresti da Hemingway in poi cancellare a parte dovresti ridiscutere tutta la filosofia che poi comunque ha condizionato il nostro gusto perché la maggior parte insomma dei filosofi ellenici insomma frequentavano l'amore efebico frequentavano insomma dei tipi di sessualità anche piuttosto promiscua e discutibile dai baccanali dionisiaci voglio dire ma chi se ne frega cioè non è che io quando guardo un film di Chaplin quando guardo la febbre dell'oro quando guardo Messie Verdoux quando guardo luci della città penso se lui ha dato con una diciassettenne cioè è un occhio veramente malato cioè dobbiamo ridiscutere tutta l'arte da Caravaggio qualsiasi cosa cioè ma chi se ne fotte di questa roba qua ma io non voglio entrare ora nella polemica di Montanelli per la morte del cielo non sono un esperto chi se ne fotte in quel contesto no? ma mi sembra ma mi sembra una banalità cioè se volete bisogna dire ancora che la violenza è brutta viva la pace e la guerra fa schifo perfetto per l'amor del cielo la violenza di qualsiasi tipo donne uomini bambini a me fa cacare detto questo nel momento in cui io vedo un'opera che può essere anche un'opera del più efferato omicida del mondo io valuto quell'opera lì anche perché magari noi non sappiamo veramente Dostoevsky cosa facesse dopo aver scritto delitto e castigo ma anche chi se ne frega cioè non so come dire a me non mi condiziona quella cosa invece oggi la personalità condiziona molto l'operato e credo che sia veramente sbagliato credo veramente che sia sbagliato insomma io ho scritto un film che si chiama modalità aereo con Fausto Brizzi e ho vissuto tutta quella ho vissuto tanto di quella faccenda e io spero che poi il pubblico alla fine veda il film cioè al di là di come la pensi rispetto a un caso giudiziario che comunque si è risolto con una soluzione però questo è il concetto di oggi il fatto di andare in profondità inutilmente cioè io mi ricordo 15 anni fa facevo colorado e uno incontrava la gente in autocrivi diceva cazzo figata ieri oppure oh micchia oggi faccio colorado eh però ieri lo share ieri ha fatto un punto in meno di share ma che cazzo te ne frega ma cosa te ne frega ma ti pare che io vado cioè come se io capito guardavo da Gianfranco D'Anci e dicevo eh micchia ieri col drive-in eh ho visto l'auditel eh eh ma perché 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 sta roba cioè perché tutto cioè il potere del pubblico ma che lo ma venisse usato in termini veramente positivi non è sempre a distruggere se no non ha senso cioè si continua a dire ma io sono libero di dire quello che voglio come ti dicono a te che ti insulti no non sei libero di dire quello che vuoi se insulti mia madre perché l'anarchia è un'altra faccenda questo è un mondo questo qui esiste una delle regole anche qua è un mondo sfocato adesso però guarda che è un effetto pensavo fosse un filtro di Instagram no 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 ecco poi ho gli occhi rossi avranno pensato che mi sono fatto una canna ma non fumo anche questo devo assolutamente scagionarmi anche da questo sfatare sto mito Paolo dimmi i progetti da qua al prossimo anno che cosa combinerai post covid allora se riusciamo a fare un film io lo faccio a settembre perché c'è un protocollo veramente serio e restrittivo anche troppo quindi ho dovevo fare un film ad aprile la regia di un film di una commedia sentimentale che adesso sarà spostata di un po' perché devo riscriverlo perché non si può fare insomma sai che questo è un momento dove riappurano le discoteche ma non si può ballare riappurano i cinema ma non ci sono i film cioè riappurano i cinema e tutti vedi uno film in prima visione a casa cioè tutto un casino è come se tu andassi ad ascoltarti per ascoltare l'alta fedeltà di un disco devi andare in macchina perché c'è un impianto più bello è una cazzata cioè per me il cinema è prima di tutto un posto poi un mercato poi un'arte però insomma è anche un posto che in questo momento è deserto purtroppo quindi al di là di dove andrà il cinema e il cinema si vedrà magari a casa io cercherò di fare un film a settembre e poi ci ho davvero voglio veramente fare un documentario sull'Alzheimer se ce la faccio quest'estate la televisione è ferma Colorado dovrebbe riprendere l'inizio del prossimo anno e poi ci sono tantissime cose anche molto belle in aria che adesso devo cercare di acciuffare e capire come collocarli grande Paolo senti mi ha fatto veramente piacere chiacchierare dobbiamo ripetere quando vuoi è stato un piacere grande un secondo appuntamento meno al buio quando vuoi ti saluto veramente saluto tutti i tuoi ascoltatori grazie a tutti veramente grazie è stata un'oretta meravigliosa grazie infinite ciao Paolo grazie a te viva viva ciao 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 grazie a te